Le cose buone nella vita non devono necessariamente essere uno spreco. In realtà, le cose veramente buone arrivano sempre in piccole dosi. Vi presentiamo SodaStream Cups, piccole e pratiche capsule di delizioso concentrato SodaStream. Con solo una bottiglia SodaStream e il tuo gusto preferito di SodaStream Cups, ti puoi preparare da solo una bibita frizzante, come piace a te, in pochi secondi. Goditi le bolle senza le bottiglie. SodaStream Cups, smart, simple, soda.